A me le storie di gangster anni 30 non dispiacciono. Bisogna capire però se si può essere ancora originali ed avvincenti. Carissimi amici e amanti dei fumetti, ben ritrovati a questa nuova video recensione. Come vedete abbiamo le storie, quindi Keller che è uscito nel colano delle storie con tre albi consecutivi. Una storia che si dipanda in tre albi. E vi racconto questa piccola coincidenza su questa mia lettura perché ho proprio recentemente, dopo aver letto questo Keller, rivisto un film che ho visto diversi anni fa. Si chiama Una vita tranquilla, dove recita un grandioso, grandioso Tony Serville. Ed è un film che ha davvero molto, secondo me, a che spartire con questo Keller. Il film, se siete per caso avete Amazon, si trova anche su Amazon Prime, quindi lo potete recuperare in quel caso gratuitamente. Comunque è un film che si svolge, diciamo così, ai giorni nostri. Mentre Keller ovviamente è ambientato negli anni 30 in America. Ma detto questo, il succo della storia per molti aspetti combacia. Perché c'è un uomo che tenta di rifarsi una vita dopo un passato burrascoso. E purtroppo, per una sfortunata coincidenza, che ci si può aspettare o meno, quanto non si sa, il passato ritorna a bussare. E quindi appunto questa storia. È una storia, come ho detto, in tre albi. E a me di solito, tendenzialmente, le storie che si dipangono in più albi, sapete, mi appassionano. In questo caso però ero un po' titubante. Che appunto sì, mi piace, però è stato tante volte riproposto, forse un po' abusato. E tra l'altro, sempre per una sorta, per una sequela di casualità, ho trovato questo Keller con tantissime assonanze, con un'altra opera che sto leggendo proprio e rileggendo in realtà in questo periodo, che è Savarese, l'opera di Wood. Ma insomma, prima di dilagare con tutte le coincidenze che mi hanno un po', che hanno contraddistinto questa mia lettura, in questo ultimo periodo, andiamo un attimo ad esaminare, come al solito, questa storia di Keller per farne percepire un po' meglio gli onfratti e così suggerire qualche aspetto che potrebbe intrigarvi o meno. In una stazione di servizio sperduta nella campagna americana, si ferma una banda di malavitosi per fare rifornimento. Una piccola esitazione ed il titolare Keller viene quasi riconosciuto dal capo della banda. Quasi. E forse purtroppo quel quasi è abbastanza. E da lì scatterà la fuga di Keller, nel tentativo di mettere in salvo lui e la sua famiglia. Metterli in salvo dal suo passato. E chi è infatti Keller? Chi è stato in passato? E che cosa ha commesso per avere a che fare con una spietata banda di criminali? Nello scenario dei provizionistici anni 30 verrà svelata l'epopea di Keller, alias Kid Carter. Che dire quindi, l'intrigo, la storia non è niente male. È scritta bene e tra l'altro il primo, questo è il primo dei tre albi, un vero pugno allo stomaco. Di quelli che poi ti fanno proprio sentire la fame e vuoi subito, speditamente procedere oltre. Questo è tra l'altro uno dei motivi per cui queste le acquisto e le metto lì e aspetto sempre di averle complete prima di procedere alla lettura. Poi proseguo nel secondo e terzo, dove soprattutto si scava, in particolare nel passato di Keller, per scoprire qual è questo passato che è tornato a bussare, come mai. E forse il passato di Keller non è così appassionante come il presente. Il presente è appunto che poi avremo la stessa chiosa nel finale con il terzo albo. Però è una storia che tutto sommato, ribadisco, sa introdurre tra questioni di vendetta, questioni di rivalsa, insomma inserendo diversi aspetti sa introdurre diversi temi interessanti. L'aspetto un po' più critico che infatti anche la prima sfogliata, erano stati uno di quelli che un po' mi aveva aggiunto qualche titubanza, oltre al punto al tema, erano un po' i viseni di Paolo Raffaelli, che possono avere anche uno stile tutto sommato non male, soprattutto riescono a dare una buona espressività dei volti, però questo stile è un po' così, un po' spesso impreciso nella definizione, il tratto non è così in linea chiara, preciso, non è proprio nei miei gusti principali, per questo da un lato sì, è attinente, si sposa bene con questa storia, dall'altro non lo so, sentivo sfogliandola che avrei preferito quella mia classica ricerca di un po' più di precisione, dettaglio, raffinatezza del tratto. Come al solito, ovviamente, è, lo ribadiamo, strettamentissimamente personale, come mia opinione. La storia invece, per me, arriva tranquillamente a un sette e mezzo, con la storia di sceneggiata da Mignacco, che, sì, ok, costituisce questa storia che potrà non essere particolarmente originale, se vogliamo, ma è raccontata, direi, bene, e mantiene fino alla fine, direi, un discreto pathos. E quindi direi che nel complesso merita un sette e mezzo anche in generale, sì, sette, forse il sette e mezzo lo strappa proprio perché con i tre albi riesce a prendere questa storia, questa profondità necessaria per coprire un po' appunto questo fattore di mancanza e di originalità, che però appunto viene recuperata, comunque da un discreto carisma anche del personaggio protagonista. Quindi sette e mezzo e direi che come iniziativa, quindi, di questi tre, merita anche un onesto award di bronzo. Fatemi sapere ovviamente nei commenti che cosa ne pensate di questo trittico, se l'avete letto o se lo dovete eventualmente recuperare, non mancate di altre domande se vi dovessero servire sempre qui attraverso nei commenti. Vi ricordo, se non l'avete ancora fatto, ovviamente, di iscrivervi per potersi vedere nei prossimi video e parlare delle prossime recensioni di LeStory, così come delle altre serie a fumetti. Anche per questa volta è tutto da Viper, ci si vede al prossimo video.